Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, eccoci qui ancora con un gameplay di Forza Horizon 3 Bene, siamo qui ancora con la nostra Mustang, la Shelby 350R e siamo proprio dal punto in cui ci siamo lasciati l'altra volta, adesso vediamo che cosa ci faranno fare dopo l'espansione del Festival Allora, ci regalano un'auto nuova, però è un SUV, e a me fanno schifo i SUV, cioè non li comprirei mai, non li userei mai Allora, BMW, no, mi dispiace, no Eh, Grand Cherokee, non è male, eh, come estetica, poi vale 80.000 Eh, Lamborghini Urus, ragazzi, è anche forse il più performante, vediamo Sì, anche il Land Rover, eh, non sarebbe male Io andrei di Lamborghini Urus e confermiamo Assolutamente simbamboli, cattivissimo Eh, allora, qualcosa di ignorante, assolutamente Eh, questo Australia Corcanguro Forza, Xbox One Eh, questo Eh, questo Monster Hand Eh, Valentino Rossi Magari prendiamo questa Un po' male Questo con la faccia Con il muso Bellissimo Eh, vabbè Eh, vabbè, questo è troppo ignorante Anche questa non è male Però c'è scritto Drift Vabbè Questa è abbastanza ignorante Ma quasi quasi Sì, è troppo ignorante Allora, prendiamo questa Va bene Va benissimo Cioè, fa proprio schifo, eh Ok Sì, 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 sì Va benissimo Cioè, oddio, l'arancione così mi piace tantissimo Con il nero Però la carrozzeria non è che sia proprio il massimo Comunque Vediamo un po' E proprio ti passiamo a S1 Qui invece siamo ad A E siamo al massimo Di A Io la terrei A Sì, 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 sì Tanto va Avremo tutto Avremo tutto Allora Cioè, ci fa guardare dietro Nooo Vabbè Che spettacolo Dai È veramente bello È veramente bello Allora Glaxon Io ho preso un Un po' di Novelty Vabbè Vabbè Questi sono quelli classici Così Così Cosa è che Abbiamo Bellissimo S3 Cuca Mopart C 31 C Vabbè Scalido C'è D Abba debe N唉 vabbè Questo non si sente Bene Allora io davanti della musica rock assolutamente si poi tanto possiamo cambiarlo va bene e un po' vediamo un po' abbiamo acrobazia sconosciuta giustamente guardiamocela un po' è sembra una Lamborghini andava come salta questo design qua alla fine ci siamo schiantati alla fine sto te sei qui cioè non per dire all'inizio ti dice vabbè ignorante brutto però guardandolo bene fa schifo veramente fa veramente schifo vabbè noi tagliamo ecco l'abbiamo distrutta l'abbiamo distrutta l'ha fatta finire quasi il mare poi devo fare una roba vediamo se la buttiamo il mare cosa succede eh ragazzi camminiamo sulle acque è rimasta lì è rimasta lì bellissimo quindi quindi ovviamente adesso non abbiamo più l'obiettivo l'obiettivo eh quidici vabbè ci siamo fregati da soli no me la stava facendo inizio ma dai dai allora ce la facciamo eccolo qua dobbiamo guidare sto trapiccolo va bene va bene ah ci abbiamo il tempo perfetto allora andiamo con questa Atom dovrebbe essere l'Atom così non è che mi piacciono molto ste macchine qui eh quindi entro quattro minuti non ce la faremo mai a meno che ma facciamo un po' di cross qua distruggiamo tutto ma si allora ci si è incastrato qualcosa ce lo stavamo portando via beh è buona questa cosa eh è una cosa buona riguardo alla fisica del gioco cioè si può interagire con praticamente tutto l'ambiente tutto il mondo esplorabile si cammina sulle acque poi diventiamo come padre maronno grande maccio se non ci schiantiamo ce la facciamo no? ce la possiamo fare ecco riesce volato il pet giustamente giustamente tutto digitale non mi garbano molto ste machi però derappo da paura trazione posteriore per fare cross fatto come si deve almeno 4x4 è difficile ma mi bagno si può fare ci siamo un po' in bosca in mezzo quante probabilità c'erano ovviamente capita a me perfetto quanto ci dà bato ma che porto un'unica voglio la posto iniziali 50.000 bizzermante se un giorno me la prenderò però costa tantissimo mi sembra e poi lag da paura cos'è sto lag abusivo? andiamo a vedere se lo troviamo attenzione per qua penso non si potesse uscire si uscire di qui cartelloni vanno assolutamente sbancati eh certo come in ogni Horizon che si rispetti il cartellone andiamo di pentola vai vediamo un po' se lo troviamo no dobbiamo sfidare quel taleale addirittura ragazzi va bene nessun problema cioè proprio lui ragazzi uno dei miei youtuber preferiti in assoluto con range rover vediamo se ce la facciamo si ma ne diamo dritti lui in teoria con la sportiveggianza vorrebbe batterci eh però è in effetti ci stava raggiungendo sportiveggianza contro follia questa volta vince la follia che spettacolo eh quel taleale non lo assumiamo scusate che altro cartellone distrutto vediamo adesso cosa possiamo fare siamo qui comunque prepotente all'erotonte si va dritto cross country frittate like a cross country pari pari cross country esibizio cross country un po' pericoloso allora facciamo così ci lasciamo qui pausa e io vi rimando a un prossimo video quindi per questo gameplay è tutto vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto mettete un mi piace condividete il video commentate ditemi la vostra tranquillamente e ci vediamo a un prossimo gameplay ciao a tutti grazie a tutti